Un saluto a tutti gli amici di TG Smart News, sono Erika Ferrati e questa sera siamo venuti al Cubo Parma per la presentazione del nuovo libro del dottor Massimo Spartini. Bodybuilding, allenamento ed esercizi, il nuovo libro del dottor Massimo Spartini in collaborazione con Riccardo Gaspari e Federico Focherini, oltre a tantissimi altri coautori. Lo raccomando vivamente. Valerio Merola, famoso presentatore, conduttore TV e grande amico del dottor Spartini, ha dato il benvenuto al pubblico ed introdotto i relatori della giornata. Marco Neri, direttore del Comitato Tecnico Scientifico FIF, Federazione Italiana Fitness, e autore di diversi testi su fitness e nutrizione, è stato chiamato come relatore, ponendo domande Emirate, al dottor Massimo Spartini, medico chirurgo di fama mondiale e autore di diversi bestsellers. Federico Focherini, pluricampioni di cultura fisica, presenti anche altri due coautori, Ciro Di Cristino, professore di educazione fisica, chinesiologo e ricercatore, e Fernando Finardi, preparatore atletico e responsabile dell'ufficio stampa del dottor Spartini. Bodybuilding, allenamento ed esercizi, un must have per gli amanti di questa disciplina, ma anche per chi vuole meglio capire cosa fare e come muoversi all'interno di una palestra e durante una seduta di allenamento in sala. Grazie, grazie a tutti. E per stasera la TGZ Marco News è tutto, arrivederci alla prossima.